ascoltando le pietre ciao benvenuti sono Aidan e vi invito a venire nel mio mondo a fare due passi tra cristalli pietre sassi e meravigliose creature di pietra di cristallo di sasso l'ho già detto sì vero comunque è il mio mondo benvenuti dunque parleremo di quello che ci dà gioia nel guardare nei colori nella luce che passa attraverso queste meravigliose creazioni è una passione senz'altro coltivata da molte altre condivisa da molte altre persone c'è da dire che negli ultimi anni vuoi per la cristalloterapia ma per la bellezza che da sempre sprigionano comunque l'attenzione verso queste meravigliose io le chiamo creature e si è veramente moltiplicata per quello che mi riguarda ho riempito la casa di sassi pietre cristalli quant'altro e sassi banalissimi trovati nelle durante le mie passeggiate e nei mercatini e anche nei negozi allora c'è molta molto scritto c'è molta c'è molta come dire letteratura su questo argomento e dal punto di vista new age cristalloterapia per quanto concerne i chakra pulizia dei chakra l'amplificazione delle varie energie sottili del corpo ma non è in realtà una invenzione solamente c'è un'invenzione un fenomeno solamente di questa epoca si pensi anche nel passato ma si pensi a santa il de garda da bind e si parla circa intorno al 1100 questa monaca che aveva dedicato tantissima attenzione un po tutti gli elementi della natura tra cui anche l'erboristeria l'alimentazione la cultura anche la musica addirittura ma anche le pietre e la cristalloterapia e tant'è che addirittura anche in iridiologia tuttora la studiano proprio anche per per le sue applicazioni la trovano tutti molto attuale e qualcosina ho letto anch'io di lei se riuscite a trovare dei libri che non è molto semplice ve la consiglio vabbè comunque sia di pietre su cui spendere qualche parola ce ne sono tantissime ma veramente tante e devo dire che il nome di questa puntata appunto di questo spazio chiamato ascoltando le pietre lo si deve proprio perché ogni persona messa davanti a un certo quantitativo di pietre viene attirata più da una anziché da un'altra questo è perché ogni individuo è un mondo a sé e ha bisogno di una determinata pietra cioè viene attratto da una pietra perché pare che ogni pietra abbia delle proprietà questo non lo dico io ma un sacco di persone cioè non è dimostrabile scientificamente che abbiano delle proprietà e questo ci tengo a dirlo né curativo né altro però secondo molti invece pur non essendoci dimostrazione scientifica è così quindi secondo me la cosa più semplice è provare male non fa dunque ponendosi davanti appunto a un quantitativo di pietre si è tirati più da una anziché dall'altra quindi si prende la pietra se possibile perché se è un diamante da sette carati forse che da sette da dieci da venti da trenta da insomma se è un diamantone insomma non è una cosa semplicissima da fare parliamo di pietre dure per intanto si prende e la si si spende un po di tempo nell'osservarla a secondo molti va purificata cioè in pratica la pietra funge da amplificatore delle energie cioè se è vero che ogni pietra ha una determinata proprietà è anche vero che va ad amplificare la determinata proprietà nella parte energetica della persona quindi se è vero che l'amplifica è vero anche che assorbe se è stata invece in mani diciamo poco giuste o attraversato insieme ad altri proprietari che ne so delle delle situazioni un poco negative può darsi che abbia assorbito energia negativa quindi per principio va messa sotto un getto d'acqua quando questo è possibile perché alcuni tipi di pietra generalmente opachi non sopportano vanno a rovinarsi delle strutture della pietra va a rovinarsi e quindi consigliano piuttosto di poggiarla sopra una drusa diametista cos'è una drusa diametista e l'ametista è una pietra viola che senz'altro tutti avete visto viola trasparente fa parte della famiglia dei quarzi e la drusa non è altro che la parte nativa dove si vedono tutti questi cristalli appiccicati sopra una crosta che sarebbe la matrice e quindi si ha una specie di crosta cristallosa si appoggia sopra la nuova pietra se si è in possesso della drusa altrimenti basta un getto d'acqua se è possibile ripeto e oppure si appoggia sopra della terra la si mette in un sacchettino se non la si vuole rovinare o se no se la si poggia sopra che ne so un vaso da fiori c'è la terra e si lascia lì una notte bene oppure c'è anche chi la purifica con del sale detto questo è bello osservare questo cristallo questa nuova pietra è bello perderci del tempo ad osservarla ma osservarla veramente anche con una lente di ingrandimento e vedere i mondi che nasconde dentro o sulla superficie se opaca oppure in trasparenza c'è da dire e che in realtà in molti molti cristalli si continuano a crescere e all'interno ci sono delle strutture cristalline dette cristalli fantasma sono generalmente dei cristalli e dei quarzi alini che formano delle strutture interne come se si moltiplicassero e questo indica dei momenti particolari della crescita del cristallo si parla di un sacco di anni un sacco di secoli cioè di moltissimo tempo però questa cosa qui che anche le pietre cristalli crescano tra l'altro è stato anche scientificamente provato e constatato su delle pietre di che hanno trovato in Romania se non sbaglio che ci sono dei tipi di pietre che sembra che si che si accoppiano e si si accoppino non nel senso di bang bang ma si si accoppiano e e danno la luce delle altre pietre su di loro per questo ci vogliono migliaia 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 di anni parecchie migliaia però è vero ho visto delle foto vi consiglio di cercare su internet dunque eravamo rimasti al alla contemplazione all'osservazione perfetto un altro consiglio che posso dare è questo più nel caso di quelli che sono traslucido quantomeno trasparenti di provare anche a porre una lampadina una torcia sotto e spostarla per vedere come cambia colore e che luce emette è una cosa molto piacevole dopodiché quando abbiamo la nostra bella pietra nuova e bella pulita si può provare anche vedere che effetto fa come si fa ci si rilassa e ci si stende la si pone due dita sopra l'ombellico e ci si rilassa a un certo punto si dovrebbe cercando di non pensare a nulla di lasciare scorrere i pensieri ci si dovrebbe rilassare più profondamente e si dovrebbe percepire una specie di torpore o comunque una sorta di rilassamento magari non succede sempre o non succederà le prime volte questo va anche affinato quanta siccome non potrebbe anche potrebbe anche non succedere mai e vuol dire che vi siete presi qualche minuto per per voi stessi il che non è male di questi tempi ritagliarsi dei momenti di un qualcosa di naturale piacevole e a portata di mano soprattutto bene detto questo vorrei spendere due parole su una pietra o due ma incominciamo con una giusto per concludere allora di che pietra potrei parlarvi potrei parlarvi ad esempio ecco una pietra che ho scoperto di recente potrebbe essere la pietra della nascita la pietra della nascita non del segno zodiacale si chiama proprio così è una pietra che una montagna in portogallo praticamente espelle partorisce dicono praticamente dalla sua superficie si staccano delle produce si staccano come delle pastiglie non grandi poco più grandi di una pastiglia di un materiale si chiama biotite questo minerale biotite ricoperte di biotite all'interno non so penso che siano delle ghiaie bene partorisce questa montagna queste queste sorte di pastigliotte e vengono dalla popolazione locale ritenute in grado di facilitare il parto di favorire la dilatazione e rilassamento e quindi è un dono o le mettono al collo le portano con sé le partorienti ma anche secondo certi ovviamente la scienza ufficiale non ha mai cioè non ha mai provato questo non lo giustifica non lo non l'ha provato non lo riconosce ecco la parola giusta emozione emozione bene e sembra che fa sia abbia effetto sulla sciatica se qualcuno soffre di sciatica gli fa bene sembrerebbe così pure anche per i reni purifica sembra che aiuti a depurare i i reni fatto sta che è questa montagna questo posto che è unico nel suo genere è patrimonio dell'unesco ma non è l'unico non è l'unico caso in cui le montagne virgolette creano qualcosa di particolare per esempio c'è una montagna in cina dove si staccano si trovano delle uova di pietra questa emette delle uova di pietra oppure parliamo in certe altre parti dove trovano delle sfere di pietra perfettamente rotonde tra le altre cose anche nelle piramidi di visoco in bosnia penso che si dica visoco non vorrei dire una cosa per l'altra e ne hanno trovate parecchie di queste sfere delle pietra forma di sfere naturali che non si capisce se siano opera dell'uomo o di cosa alcune sembrano veramente enormi oltretutto e questo comunque del portogallo pare che sia un rarissimo fenomeno geologico però tutto può avere una spiegazione ma ciò non toglie che possono esserci neanche altre cioè voglio dire che una cosa abbia una spiegazione scientifica ma ciò non toglie che possa avere a livello energetico anche qualche possibilità qualche effetto anche se non è stato provato del resto tutto può essere a questo mondo bene detto questo io vi saluto spero di non aver non vi avervi annoiato di aver detto qualcosa che vi possa in qualche maniera essere utile o quantomeno avervi interessato un attimino e vi saluto ciao grazie